Il prospetto informativo, sottoposto a coloro che hanno sottoscritto le azioni offerte in opzione in sede di aumento di capitale della vecchia banca Marche, contiene informazioni false, sia in termini di solidità e salubrità dei bilanci, sia in termini di prospettive di redditività future per l'investimento fatto. Con queste prerogative e con dati di fatto, la Fondazione Casa di Risparmio ha dato mandato all'avvocato Roberto Pozzi di Milano di intraprendere un giudizio risercitorio per 6 milioni e 170 mila euro nei confronti della nuova banca Marche e della società di revisione PricewaterhouseCooperspa per aver indotto le fondazioni e i piccoli risparmiatori ad intraprendere questo aumento di capitale, risultato poi inopportuno. Nel 2012 è stato sottoscritto un aumento di capitale, questo aumento di capitale ha comportato per la nostra fondazione un esborso di 6 milioni e 100 mila euro. Questo aumento di capitale è stato fatto su un documento sottoscritto da questa società di revisione che ipotizzava una situazione che affermava, che dichiarava una solidità di banca Marche e quindi la necessità di fare un aumento di capitale per rafforzarla, per renderla più produttiva, che avrebbe potuto dare rendimenti più alti. Purtroppo questi bilanci, poi se sono questa documentazione, si è dimostrata poi falsa, errata e ha indotto le fondazioni e molti privati a fare sottoscritto un aumento di capitale quando era certamente inopportuno. E che estendiamo anche ai privati risparmiatori che hanno sottoscritto l'aumento di capitale. Questi privati risparmiatori che risiedono nel nostro territorio potranno usufruire della stessa azione legale senza dover spendere nulla in questo momento, perché le spese iniziali verranno sostenute totalmente dalla fondazione. Una vera opportunità questa quindi per quanti sono stati vittime di questo caso, di poter sperare di ottenere qualcosa. Ritengo che un privato risparmiatore che ha investito nell'aumento di capitale 5.000 euro non può intraprendere un'azione legale autonoma, quindi si unisce a noi e poi tutti insieme l'Avvocato Pozzi si rappresenterà presso il Tribunale di Milano. L'Avvocato Pozzi, giunto appositamente da Milano per illustrare i termini di quest'azione legale, si mostra fiducioso sul suo buon esito. Diciamo che elementi per poter sostenere il prospetto informativo, veicolasse delle informazioni non corrette, ci sono. Sono anche autorevolmente suffragati questi elementi. Evidentemente porteremo all'attenzione di un Tribunale autorevole come il Tribunale di Milano una situazione auspicando che il Tribunale accordi la doverosa tutela ai risparmiatori, alla fondazione e ai risparmiatori che sono stati ingannati, nel senso che hanno evidentemente confidato nella bontà della scelta di investimento che veniva loro prospettata, quando in realtà questa scelta di investimento si è rivelata evidentemente perniciosa, pregiudizievole per tutti.